Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla prima puntata di Quello che penso una rubrica in cui, a stile vlog all'incirca, in cui esprimo le mie opinioni su determinati argomenti prettamente in ambito musicale, però più avanti è detto che discuta anche di altre cose quello di cui volevo parlarvi è riguardo una notizia uscita pochi giorni fa di cui ora ne parlano praticamente tutti, ossia Fabio Fazio che sarà il conduttore di Sanremo 2013 ha detto, ha convinto la direzione Rai a dire no alla partecipazione di Mino Renni nel concorso Canoro e no ai figli dei talent, ossia a quelli che hanno partecipato ai talent show tipo X Factor, Amici e Compagnia Bella io sono stra d'accordo per quanto riguarda il no ai minorenni secondo me viene sfruttata troppo l'immagine del minorenne talentuoso che secondo me spesso i minorenni, o comunque sia i ragazzini, i ragazzi tendono poco a divertirsi in quello che fanno e secondo me sono molto pressati da dei genitori che secondo me vogliono sfruttare il talento del figlio per farci una fonte di guadagno un esempio celebre in passato è stato quello di McAloy Culkin quello del ragazzo di Mamma Persolerio i cui guadagni furono spesi totalmente dai genitori o dal padre del ragazzo questo si deve fermare e per quello sono assolutamente d'accordo su questa decisione tanto appunto avranno tempo, comunque sia possono coltivare la passione del canto però sinceramente non sono d'accordo nell'utilizzo della loro immagine in televisione invece per quanto riguarda i figli dei talent sono un po' più titubante del tipo che secondo me se uno ha partecipato a un talent show come X Factor o Amici e ha delle doti canore buone, ha delle doti canore comunque sia di un certo livello perché non può partecipare a Sanremo? e soprattutto non condivido il modo di far votare via web infatti per fortuna appunto anche quello è stato bloccato perché più che altro appunto internet è sfruttato molto dai ragazzi che vanno a votare i propri idò del loro talent show si vede appunto le vittorie di Scanu, Karta, Emma Marrone però sinceramente non vedo l'utilità delle esclusioni dei figli dei talent secondo me hanno già fatto bene bloccando la votazione web quindi sinceramente di rinunciare anche a dei cantanti di tutto rispetto come ad esempio Noemi sinceramente o comunque sia di essere, di dare subito un pregiudizio di un cantante appena uscito da un talent dicendo eh guardate quello di Amici, eh guardate quello di X Factor no, no, perché secondo me appunto i talent show nonostante io non li segua tanto però comunque sia regalano dei ottimi talenti canori quindi non sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda il no ai concorrenti del talent show e che soprattutto appunto che devono essere marcati a vita come un prodotto come un ragazzo uscito da un determinato programma secondo me deve essere identificato con il proprio nome e cognome o comunque sia con il proprio nome d'arte non come quello di X Factor o quello che ha vinto Amici io avrei detto di no a varie persone che hanno partecipano da 40 anni a Sanremo tipo si vede sempre l'Albano di turno il Totto Cotugno di turno l'Eva Zanicchi e tutte le varie persone che sinceramente ci stanno un pochino rompendo il cazzo con la loro musica ormai da 50 anni secondo me bisogna bloccare queste persone secondo me dopo un tot di partecipazioni a Sanremo o dopo un tot di vittorie o dopo un tot di anni di attività professionista non può avere accesso a Sanremo perché i festival servono più che altro a dare dei talenti a dare facce nuove alla musica in questo caso alla musica italiana a Fazio avrei consigliato un no a gente che ci sta rompendo veramente i coglioni da tanti anni ma ci mancherebbe ma ora c'è anche gente comunque sia di tutto il rispetto nella musica italiana che sta andando avanti da tanti anni però secondo me dei festival devono promuovere delle facce nuove e quindi che Albano e company sloggino e lasciano davvero il posto a gente che ha talento per finalmente per sperare un ricambio generazionale della musica italiana quindi in sintesi sono d'accordo per il noi minorenni sono contrario all'esclusione da questa manifestazione dei partecipanti ai talent show non ne vedo il motivo sinceramente lo vedo solamente come un pregiudizio perché uno non può essere escluso a priori semplicemente perché ha voluto provare a sfondare a mettersi in mostra attraverso un talent per di più in concomitanza al no della votazione sul web invece direi di no ai classici senatori o comunque sia quelli che vanno avanti da decenni nel panorama musicale italiano e che praticamente vengono ricordati solamente appunto attraverso la loro partecipazione a Sanremo quindi secondo me bisognerebbe dire di no a gente che ha un tot di partecipazioni a Sanremo che magari appunto anche un tot di vittoria a Sanremo e che è da un tot di anni nell'industria discografica italiana scusate se magari è risultato un discorso un po' così però non mi ero preparato nulla e volevo dire quello che pensavo ci sono stati magari un po' di tagli in mezzo solamente per me ehm ehm ditemi quello che pensate assolutamente voglio sentire la vostra opinione a terzo un commento e anzi mi farebbe ancora più piacere un video risposta quello che ne pensate al no sui minorenni e al no sui sui sulla partecipazione dei figli dei talent appunto questa decisione è decisa da Fabio Fazio ciao a tutti ragazzi